Capri, Ischia e Procida escono dal lockdown e si preparano alla fase 2. Il governatore De Luca ha annunciato che da lunedì saranno previsti rientri anche sulle isole del Golfo, ma tenendo sempre la guardia altissima. Faremo serrati controlli, ha precisato De Luca, e chiedo anche ai sindaci del posto di darci una mano. Intanto però possono tornare a sorridere turisti e operatori del molo Beverello. Oggi stiamo riuscendo a prendere un po' d'aria. Ci ammettiamo che pure economicamente ci mettiamo in una posizione un pochettino più attagiata. Tutto comincia a riprendere a piccoli passi. Per il fatto che gli spostamenti sulle isole sono necessari come qualsiasi spostamento, da un paese all'altro, come dalla terraferma a un'isola, giustamente con le massime precauzioni, giusto che ci siano controlli. Distanziamento, cercare di non dare fastidio perché se no non ci faranno più arrivare sulle isole, sicuramente, però ci mancano. Ci aspettiamo che chi venga sull'isola abbia rispetto del territorio perché siamo una piccola isola e c'è solo un ospedale, quindi speriamo così. Giusto che ci siano tutte queste norme così ristrette, che deve passare. Bisogna essere comunque rispettosi del prossimo, rispettosi per sé e anche per gli altri. Sì. 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 Sì.